Questa è una commedia innanzitutto di un pesarese, è una cosa molto strana, ma è un mio carissimo amico, si chiama Gabriele Morbidi, che ha scritto questa poesia, è già stata rappresentata a Pesaro, e noi l'abbiamo ripresa naturalmente tradotta in dialetto fanese, perché altrimenti ci sarebbero stati dei problemi di comprensione. Si è ambientata in un ambulatorio, una sala d'attesa di ambulatorio di un medico, e queste persone che arrivano, è vero che una commedia che dovrebbe far ridere comica nell'ambulatorio di un medico, sì, perché nell'ambulatorio del medico si trovano delle persone più variegate, con mille problemi. E quindi che cosa succede? Che tutto sommato nell'ambulatorio del doutor, come si dice da noi, ci sono veramente, sì, chi ha i problemi diciamo seri, ma quelli noi non li tocchiamo, però tocchiamo quelli che arriva, comincia a raccontare la sua storia, i problemi con la moglie, col marito, col vicino, ed è questa che nasce la commedia, e speriamo che sia anche, vi faccia divertire, che sia abbastanza comica. Sicuramente divertente, in dialetto, il 14 luglio, all'Arena BCC di Fano. Ok, venite numerosi, Marc Mann, e quando bocca dentro di chi è l'ultimo, a che si va a raccontare tutti.